Ciao ragazzi, in questo video ci andiamo a vedere lo stacco a gambe semi tese. A ferro, lasta un pollice dalle anche, porto i piedi sotto le anche rivolti in avanti, con le punte dei piedi rivolti in avanti. Da questa posizione, schiena per la dritta, proprio nel petto, cerco di mantenere le curve della schiena fisiologica normale, quindi non esagero a aumentare la lordosi lombare e neanche ad attivarla. Posizione fisiologica, da questa posizione scendo giù mantenendo le gambe semi tese, scendo al massimo della profondità, cerco di mantenere la schiena immobile e cerco di avvertire la maggiore tensione possibile sui femorali. Per tutto il movimento, cerco di non flettere il ginocchio, fondamentale non pigare il ginocchio, mantengo il bilanciare vicino alla coscia, vicino alla gamba, costantemente. Grazie!